fatto così tante fermo ok fatto così tante modifiche che ok non caricare in altri quel mondo che che guarda 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 qui c'è il copper adesso addirittura e l'armatura non mi da più tutti i miei punti tecnicamente me la dà lo stesso è lo stesso tutti i punti armature anche se l'ho cambiato ok meglio meglio molto meglio ok l'armatura di di come si chiama non mi dava più tutti i miei punti armature l'armatura di cactus vabbè 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 e allora volevo tagliare le alberi di di stronzi qui prendere chissà se si sono generati minerali speriamo di sì altrimenti è un po chiuso a merda vedete harvest level iron non posso prendere il ferro col piccone di pietra o flip mi serve il piccone di copper però ripeto se non si sono generati minerali mi sa che questo mondo può andare a cagare qualmente la spada in mano non si sa mai wow fa un po paura fa un po paura ah grazie dell'esplosione della luce uh vedo 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 cos'è questo tin alluminio ok questo è alluminio e dovrebbe esserci anche il copper se si è retrogenerato bastardello o no o no non vorrei che l'unico che non si è retrogenerato ma io sono tipo in una caverna ma ci ho pensato ok io sono tipo una caverna ok una caverna che controlla una cosa ma va bene prenderei tutto arrivederci poi è esploso il creeper però attento non mi risalgo non mi ricordo dove sono venuto ma da qui ok vedo la luce madonna ok ok il copper non si è generato però ok ho riabilitato il nome della mia famiglia no avevo dimenticato di abilitare la rigenerazione per gli altri minerali non so se adesso funziona ma se funziona gg a me serve cibo e se vai fai uno di questi e da un sacco di saturazione e un po di questi adesso mi da anche well fed e da un po di aspetta no le carote non me ne voglio finire ok via porterò le mele ah c'ho anche questi perfetto che il culo io sono andato là sotto ho trovato sta roba il libro incantato non serve a niente beh sarebbe bello se si potesse disincantare e prendere un'esperienza almeno usi l'esperienza per l'altro ok mele a questo punto farei altre torce oh no ecco via frecce possono servire ho anche un secchio che culo ok via giù ok eee auguri senti tutti esplodere ah appena sono sceso e mi hanno visto tutti quanti esplodere le risate ok allora con le torce vediamo un po' se si è retrogenerato il copper non ne vedo già è un brutto segno questo ferro zombie erano invisibili c'è uno scheletro invisibile che cosa sta succedendo ok complimenti si è suicidato oh quanto è veloce sto scheletro ok suicidio time perfetto cosa sono queste particelle ma va bene mi sa mi sa che la retrogenerazione non ha funzionato e quindi ora mi attacco al cazzo no non voglio ricominciare uh ferro grazie grazie a chiunque me l'abbia scavato no che piaga io vorrò vedere altri punti vedo un po' se per caso oh shit oh shit oh shit ma chi è che è il pisto guardalo guardalo guarda c'è anche uno scheletro livello 3 che è narcisus il forgotten io sono qui per cercare il copper che mi sa che devo ricominciare il mondo quindi se mi ammazzate non è che mi frega più di tanto ah tnt sono rallentato pure affanculo oddio abbiamo un problema mi sa che o devo ricominciare o no uno spawner di silverfish oh no madonna mi ha shottato cioè ma che cannone si vabbè purtroppo il mondo non potevo più usare non ho generato il carbone ho fatto una cappellata vabbè dove ero andato tipo what the f... che cosa è successo qui a parte è fatto bellissimo che cosa non è rimasti tutti i nest di silverfish tipo dirt dirt no ah no non sono i nest di silverfish ok ma che stradiavolo c'è what the f... ha generato una tromba d'aria assurda ah allora qua c'è casa mia ok ecco qua bellissimo è stata la tempesta di sabbia cioè lo spawn c'è stato ah quella è la tromba d'aria che passava all'inizio io ho detto vabbè non sta venendo di qua what ho fatto un casino ah ora provo a andare in aria alle caverne ma secondo me poi apriamo la landa per andare in aria alle caverne speriamo che non crash si imbaghi e cose effect pinet vision zero ok no non vedo copper purtroppo si è generato solo l'alluminio quindi la retro generazione funziona solo una volta vabbè vabbè uno ci prova che ne sapete bello guardalo guardalo cosa guardi cosa guardi bello cosa guardano tutti guardano di là che ci sta di là stavo io no io stavo di là cosa stanno mirando u diamanti u oro peccato 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 no mi sarei un'altra proprio qui proprio adesso eccoci qua nuovo mondo prossimo giro prossima corsa prossime cose vai uf3h ok si vedevano gli d vogliamo sempre che non mi venga qualcosa da dietro tanto posso mettermi più in alto così ok proviamo con gli animali maledetti ok non sembra esserci nessuno ho spavolato una taiga una spruzza una spruzza una taiga spruzza harvestable yes effective tool axe ah ci ho messo anche quella lì da sopra che ti dice di che mining level è il blocco che stai scavando la legna è normale però per gli ore ore come ore no basta non smetto ploff ho detto ploff ecco grazie pigne solo sei di legna non è mezza ma che cristina d'avena oh no è uno di quelli col dispensare in testa sopra l'anima picchia il maiale mettete il maiale contro esatto non penso pure io però mi ha dato un sacco di stick dai almeno quello c'è un sacco di stick ma ma è bello schifo facciamo la pena una oh faccio giusto giusto un'ascia che tristezza guarda faccio giustining allora accetta no accetta stick e testa ok tac e tac ho finito la linea praticamente che tristezza che tristezza vai andiamo questa zucca via vai giù albero comunque come dicevo già da prima è molto cambiato adesso praticamente invece di esserci legna pietra o flint pietra o flint ferro ferro diamanti diamanti cobalto e quant'altro è un po' diverso è un po' più lungo il fatto è tipo legna pietra uguale da pietra però non puoi fare subito il ferro serve il copper il copper puoi prendere il ferro il ferro puoi prendere il tin con cui puoi fare il bronzo il bronzo puoi prendere il il lead mi ricordo come si chiama in italiano il piombo mi sa puoi prendere il piombo il piombo puoi fare puoi prendere l'argento con l'argento puoi fare l'electrum e puoi prendere ok e puoi prendere oh almeno un po' più decente puoi prendere l'ossidiana e con l'ossidiana puoi prendere il cobalto ho allungato il brodo un sacco in poche parole proprio quello ripetiamo sti alberelli via via ok what time is it è già passata no ancora non passa oh shit è stato vicino molto vicino via vi faccio questa qui che è molto buona come spada attacca veloce anche se vi manchi pur sempre buona la x ce l'ho manca la pala ok manca qualcosa mi sa non lo so vabbè piccone piccone facciamo il binding facciamo il stick uno due tre facciamo questo facciamo la pala e basta dovrei aver fatto tutto bam spala bam spada bam allora manca il pezzo della spada perfetto ottimo eccellente direi direi proprio eccellente allora io butterei giù qualche altro albero prima di iniziare a prendere la terra e farmi il solito pillone lo so sta diventando un po' noiosa questa serie sono io che salgo faccio il pillone scendo salgo scendo salgo scendo salgo però giuro che andrò nelle caverne il prima possibile questa volta così un po' di azione un po' di cose se mi prendo la legna cosa posso fare solo posso fare una piattaforma insomma non ho una delle grandi cose belle che mi piacciono ma se switcho di qua vuoi cadere dall'altra parte si boom boom ho scoperto che solo il tronco fa danno le rami eccetera no ok oh c'è un albero normale c'è un albero normale vuol dire che c'è no aia 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 mi sono cadute cose addosso oh no 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 potrebbe adesso se la prese con me perché è come se l'avessi spanata io la TNT no no c'ho pure Gesù al presso via allontaniamoci via evacuare evacuiamo maiali voglio bene non picchiatemi anche voi ho preso il blades pet che fai il blades pet? tranquil boost attack damage uh allora aspetta haha bitch bitch no no devo mangiare devo mangiare devo mangiare devo mangiare no si sono bloccate palle ok mi si rigenera la vita più velocemente adesso no sono incastrato oh oh non sono morto sono morto maledizione gli alberi ma non ci sono caverne what the fuck no io senza parole cos'è questo una caverna che c'è vines ah il dungeon della inventory pets bene in questo mondo non ci sono caverne infatti non ci sono nemmeno i mob vabbè un fail dopo l'altro sto video niente via no 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 Grazie.